Spiritual Festival è tornare al proprio centro, è la centralità, è il centro del sogno, è il centro del sorriso, è il centro del sole, è il centro della tua pancia, è il centro del cuore, è il centro del sogno. Noi vogliamo essere il centro dell'immaginario, dell'immaginario collettivo e quindi portare il colore, portare la bellezza, portare la novità, portare veramente qualcosa di poetico, portare il sorriso, la gioia, la gratitudine e il divertimento. Per fare questo abbiamo fatto un mix tra arte, magia, sogno e realtà, in modo tale che ognuno possa trovare il proprio aspetto, possa trovare il proprio specchio e possa trovare la propria personalità coloratissima, solare e divertente. Grazie